Mazzotta, un pareggio a Cremona, molto poco zemaniano, zero gol e anche pochissime occasioni, un aspetto molto diverso rispetto agli ultimi pareggi intanto. Sì, sicuramente sappiamo che dobbiamo migliorare tanto, ci stiamo allenando sicuramente per crescere, perché dobbiamo portare al campo le cose che ci chiede il mister. Però giocavamo in un campo difficilissimo, sicuramente abbiamo affrontato una squadra buona per la B, ci teniamo il pareggio, pensiamo alle cose positive che non abbiamo subito gol, sappiamo che dobbiamo migliorare tanto. Senti, a volte ci sono dei blackout, come si è visto con l'Entella, come se staccaste la spina quando la partita sembra in controllo. Perché accadono queste cose secondo te? Non lo sappiamo veramente nemmeno noi, il mister sta analizzando tutto e sicuramente dobbiamo migliorare, lavoreremo per far sì che non capitano più queste cose. Sicuramente ci stiamo portando dietro qualcosa della passata stagione, della retrocessione, perché l'ho subito anche l'anno scorso con il Frosinone, perché pure noi all'inizio non facevamo benissimo perché subentrava, non lo so, un paura, non lo so che cosa subentrava. Sono sicuro che col passare le altre partite faremo sempre meglio. Antonio, la tua precedente esperienza in Biancazzurro non è stata particolarmente felice, come giudichi questo inizio di stagione dal punto di vista personale? Dal punto di vista personale mi sto trovando bene, sia con il mister, con gli schemi, con tutto. Io l'ho detto anche all'inizio, io vorrei dimostrare quello che non ho dimostrato nelle passate stagioni qui a Pescara. Penso solo a lavorare, a dare il 100% in campo e poi a mettermi a disposizione della squadra. Io sono venuto che volevo rimanere, volevo mettere in difficoltà, mi volevo giocare le mie carte. Mi fa piacere che il mister mi abbia voluto tenere qui a Pescara e adesso niente, spero solo di ripagare la sua fiducia perché me ne sta dando tanto e niente, spero di ripagarlo con le prestazioni in campo.